Allora, è arrivato il momento di chiamare sul palco il re dei doppi sensi. Allora, ci presenta la sua ultima canzone scritta con Tiziano Rupil, Molla il bevi. Canta Chico De Matteo! E' da questa mattina che ho un gran cerchio nella testa, vedo a volte doppio e nella mente una gran tempesta. Non ricordo neanche che cosa ho fatto solo ieri sera, non posso più aspettare dal mio dottore, io devo andare. E sono assai curioso di sentire cosa mi dirà. Molla il bevi, lascia stare il vino, Molla il bevi, dimenticati il grappino, Molla il bevi, il whisky non fa per te, Molla il bevi, lascia bene a me. Io da questo dottore più non ci vado, più non ci torno, Giuro che di vino ne bevo poi solo tre litri al giorno, Di graffini giuro ne bevo solo una decina a sera, Non è di certo il bere, non è il whisky che mi fa male, Adesso cambio dottore e vedremo cosa mi dirà. Molla il bevi, lascia stare il vino, Molla il bevi, dimenticati il grappino, Molla il bevi, il whisky non fa per te, Molla il bevi, lascia bene a me. Molla il bevi, il whisky non fa per te, Molla il bevi, lascia bene a me. Molla il bevi, lascia bene a me. Molla il bevi, è meglio per te. Chico, Chico De Matteis, De Matteo, Non so perché dico De Matteis. Colau, colau, colau. Chico De Matteo, allora Chico De Matteo. Io ho un regalino da darti. Abbiamo un regalo in diretta. Allora vediamo, vediamo un regalo. Intanto chiediamo, ma dove sto? Che regalo è? Attenzione. No scusate, in diretta, no. Intanto presentiamo. Ecco qui. No, ok. Il nuovo cd. Con le mani devo toccarlo? Sì sì certo. Ok. Un secondo in diretta. Francesco, voi quanti? Inquadriamo in diretta. Tabata è un po', come mai bagnato? Galletti posto. No, come mai bagnato? Tabata, vieni. No, grazie Francesco, la donata è te. Allora, inquadriamo questo straordinario capolavoro di Chico De Matteo. Grazie. È una serie di grandi orchestra. Sì, però è veramente bagnato Chico. Spero che insomma sia acqua, diciamo così. Quindi facciamo un grande applauso a Chico De Matteo, anche per averci donato questo straordinario cd. Grazie. Grazie, grazie mille. Allora Chico, portalo di là, per favore, dopo lo prendo volentieri. Ecco, grazie. Allora, adesso è arrivato il momento, insomma, su questo palco succedono delle cose originalissime. Si balla, si canta, ci si diverte. Però anche tu potevi venirmi d'aiuto, non ti sei allontanata, perché? Francesco, te l'ha donato così in maniera spontanea, io non volevo distogliarti da questo momento.